Veloce aggiornamento per quanto riguarda il micro drone L'ultima uscita che abbiamo fatto sono riuscito a spaccare un paraelica Li avevo già ordinati dalla Cina ma ci stanno mettendo il loro tempo ad arrivare Sono fermi in dogana penso ormai dal 17 settembre Arriveranno a un certo punto Poi avevo ragione a dubitare della qualità della CAM, la Caddex Tarsier Ed effettivamente adesso la Caddex è uscita con una versione 2 Che in realtà cambia soltanto la lente Quindi ho contattato Caddex e in teoria dovrebbero mandarmi una nuova lente da montare sulla CAM E speriamo che la qualità sia migliore E quindi oggi sono uscito con il grosso, il 6 pollici Ho fatto 4 batterie, ho rischiato di perderlo all'ultima batteria sbattendo contro alberi e perdendolo nella boscaglia Ma qualche video dovrebbe essere uscito Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.